buonasera ragazzi allora come documentare questa partita dunque un pareggio diciamo giusto diciamo giusto alla fine ci sta ci sta pareggiarla ma non è che c'è molta luce un attimo aspettate un secondo ecco la mia torcia dell'iphone sempre ok mamma mia quanta luce comunque dicevamo si chiedeva al canale mi raccomando un x è arrivato un pareggio siamo in cibo slig comunque matematicamente quindi diciamo obiettivo minimo raggiunto no con quattro giornate d'anticipo quindi rispetto a uno scorso due anni fa quantomeno è arrivato il risultato che volevamo diciamo che un inter un po intermittenza non che questa roma abbia fatto chissà che cosa nel secondo tempo il secondo il secondo che ha fatto la roma mi chitaria nessuno l'ha fermato un flipper e poi entrato in porta diciamo che lì anche il nostro centrocampo difesa un po ballato però però il gol dell'uno pari un po viziato da un falletto tolto che lautaro l'autaro stasera ma a parte il gol che era in fuorigioco mi ha un po deluso perché tutte le volte questo qua è sempre per terra cioè non è possibile non è possibile non è per terra com'è non sempre ti fischiano sti falli lui sempre lui gioca sempre così e questa cosa mi fa incazzare poi ho visto che il calcio sul piede c'è stato tolto che lautaro poi esagera a far rotolarsi però comunque il falletto c'era questo qua il var andato pure a vederlo e non è fallo è già lì è già lì chi fa incazzare anche perché il primo tempo era praticamente finito quindi magari qualcosa cambiava diciamo che lì poi questo secondo gol è arrivato così all'improvviso però per il resto la roma non è stata poi così pericolosa e nemmeno l'inter nel secondo tempo praticamente non è successo niente di che fortunatamente fortunatamente spinazzola ha fatto quella cappellata perché alla fine si tratta di non cappellata cioè è andato a ritardo sul pallone ha preso la gamba di di moses fortuna e quindi è dato ricordo solo così potevamo pareggiore a noi perché proprio quest'inter secondo tempo non c'era proprio conte i cambi li ha azzeccati stavolta conte ha fatto dei cambi giusti quindi ha tolto andrea ha messo moses tutto l'autaro ha messo lukaku ha tolto gaiardini ha messo ericsson i cambi giusti cambi giusta volta da conte non si può pretendere nulla però peccato non averla vinta perché vincendola magari guadagnavi punti sulla lazio sull'atalanta soprattutto diciamo per con per come sarà messa mi accontento così vi ho detto già il pareggio ci mettere la firma anche comunque dipende sempre come si mette la partita da fastidio da fastidio un po il gol del pareggio della roma per come per come è andato comunque sotto var ancora gli dai quel gol lì fa un po incazzare però diciamo che nel complesso questo pareggio qua me lo tengo stretto ma tengo stretto comunque complimenti alla roma quantomeno riuscita a metterci in difficoltà perché l'intra non ha fatto una bruttissima partita però se con il secondo tempo si è visto ben poco di questo ha avuto tantissime occasioni anzi con brozovic potendo fare il 2 a 0 insomma diciamo che con il 2 a 0 nel primo tempo forse la partita poteva anche cambiare però non è detto che questa india si faceva anche rimontare sul due pari però comunque non io direi di non di non stare a rimpiangere i punti persi perché comunque se è vero che col bologna hai perso praticamente tre punti con col verona hai perso due punti è vero che hai perso tantissimi punti però quello che dicevo io l'altro giorno non stiamo a guardare i punti persi in passato perché comunque ricorda ricordiamoci che col parma meritiamo meritavamo di perdere alla fine abbiamo vinto lo stesso quindi quello la non solo ricorda nessuno che lì erano zero punti erano zero punti abbiamo fatti tre lì quindi tolti i punti dall'andata ma all'andata era un altro campionato praticamente adesso con il lockdown qualcosa cambia qualcosa è cambiato ogni tre giorni non è normale giocare e comunque senza pubblico quindi questo diciamo è un altro campionato un campionato diverso diciamo però poi lo stesso punteggio da cui sei partito ora da inizio del campionato comunque ragazzi che devo dirvi pareggio giusto ci sta semplicemente league matematicamente diciamo che guardiamo bicchieri mezzo pieno in questo di questa partita e comunque bisogna dirlo ragazzi io lunedì sera cosa ho detto minimo sette punti ragazzi sette punti li abbiamo fatti in queste partite ci sta pareggia con la roma cioè non è così scandaloso però già con la roma è scandaloso pareggiare con con anche anche se il verona comunque verona voglio dire a me significò tanto catalatta quindi ci può ancora stare se così vogliamo parlare diciamo se proprio devo stare lì a recriminare i punti di quelli col bologna perché praticamente era una vittoria quasi fatta poi col parma tanto di guadagnato diciamo che nel complesso ci sta ora domani cosa dobbiamo sperare no che vinto la juve che pareggi non lo so premono un pareggio da facciamo così facciamo un pareggio domani uno pari due pare anche lì e poi siamo a posto facciamo così comunque ragazzi siete al canale sempre forza inter noi ci vediamo o domani o dopo domani col gameplay pronostico di inter fiorentina ricordi devono subito riprenderci perché la fiorentina sarà dura una partita dura e lì mi piacerebbe avere tre punti piacerebbe avere tre punti così almeno consolidiamo il secondo posto secondo posto a sto punto adesso obiettivo Champions League raggiunto adesso secondo obiettivo arrivare a meno secondi non sarebbe male ora arrivano partite tutti difficili fiorentina genoa napoli atalanta sarà davvero dura quindi vediamo di impegnarci e poi devo pensare l'europa league forza inter e buona settimana per quella che sta per cominciare a presto ciao iscrivetevi al canale